da parte dell'arbitro, una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti nemmeno quando erano sotto nel punteggio e poi hanno vinto la partita una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al parecchio bisogna dare atto al loro coraggio, adesso possono festeggiare dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo grazie Luca per il tuo prezioso contributo un ringraziamento e un saluto anche da parte mia grazie 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 grazie